Musica Arriva anche a Casavatone il tampone solidale. Nella giornata di oggi e nella mattina di domani, grazie all'impegno delle associazioni La Fiammella e Sadisa, in molti hanno potuto effettuare un tampone senza pagare nulla e avvicinarsi così più serenamente alle festività natalizie. Nel momento in cui abbiamo notato che parecchie persone non avendo la possibilità di fare un tampone, abbiamo pensato di donare questo tampone. Circa un centinaio gli indigenti che si sono arrecati nello spazio polivalente della parrocchia Gesù Cristo Lavoratore per effettuare il tampone rapido antigenico ed ottenere, grazie al lavoro di medici e volontari, nel giro di 24 ore, il risultato sulla positività o negatività al virus. Noi avevamo predisposto un certo numero di tamponi, la richiesta è stata maggiore, però abbiamo potuto affrontare questa spesa. Economicamente, com'è stato possibile realizzare tutto questo? Perché i test hanno un costo anche sostenuto nei centri privati. Certo, grazie all'associazione oratoriale La Fiammella e quindi tutti i soci ci siamo uniti e abbiamo potuto dare questa possibilità ai cittadini. Grazie a tutti!